. Justin Bieber, ancora smorfie su Instagram . Sembra proprio che Justin Bieber adori fare le smorfie e pubblicarle su suoi account social, non ne capiremo mai il motivo, ma pare che dovremmo imparare ad accettarlo. . Che abbia un picco sia semplicemente in vena di fare lo scemo. Probabilmente rimarremo nellignoranza più assoluta, ma di certo c'è che Justin Bieber negli ultimi tempi ha deciso di non prendersi molto sul serio e invadere i social con le espressioni più buffe che riesce a fare. . Dopo aver pubblicato un suo selfie con la bocca piena di cibo uno scatto che avremmo preferito non vedere Justin Bieber è tornato alla carica con una nuova foto, che lo raffigura a bocca aperta con la lingua di fuori e gli occhi strabuzzati all'infuori. . Anche qui, nonostante ci siano seri dubbi sul gusto di questa nuova bravata, sono più di un milione e mezzo i lighe ottenuti dal cantante canadese. . La foto è stata scattata nel backstage di un evento di beneficenza organizzato allo scopo di raccogliere fondi per i danni provocati dall'uragano Harvey, dove Justin Bieber ha diretto la preghiera collettiva. . . Fervente cristiano, Justin Bieber è un credente praticante, non è raro infatti vederlo in chiesa o ad eventi religiosi. Una vita in chiesa, la stessa di Selena Gomez. . 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